Poliziesco al microscopio è il titolo del primo gruppo di puntate, sono 13, che l'autrice René Reggiani ha presentato nel 1980 ai microfoni di Radio 2. Una corsa abbastanza dettagliata, dal precursore di tutti i polizieschi, un personaggio vero realmente vissuto, Jean-François Vidoc, fino a Nero Wolf, passando per il grandissimo Sherlock Holmes, e poi ancora Philo Vance, padre Brown, Poirot di Agatha Christie e la furba Miss Marple. Tutti personaggi notissimi agli appassionati che appartengono al cosiddetto poliziesco all'inglese, cioè a quel tipo di giallo dove il detective si affida alla sua meravigliosa capacità di deduzione, o meglio di induzione, ossia quell'abilità analitica che lo fa risalire da uno o più particolari alla scoperta della verità. Poliziesco al microscopio. Storie, retroscena, personaggi, ambienti. Testi e presentazione di René Reggiani. Regia di Marco Lami. In questo numero, Nero Wolf è un corruttore? Confesso. Sì, confesso. Per una volta anch'io, come Agatha Christie, ho barato. Volevo prendere in giro la mia trasmissione e ho inserito il titolo Poliziesco al microscopio nella frase di Nero Wolf, che, ben inteso, parla di una trasmissione radiofonica, sì, ma non certo di Poliziesco al microscopio. Spero vivamente che chi è in ascolto non faccia come Nero Wolf e, essendo di certo più agile, non balzi attraverso la stanza per chiudere la radio proprio adesso. Comunque, gli scherzi si addicono allo stile di Rex Stoughton, autore della felicissima coppia Nero Wolf Archie Goodwin, perché uno dei suoi maggiori pregi consiste proprio nell'inesauribile vena ironica dello stile. Questa straordinaria coppia di detective americani, due personaggi veramente azzeccati, nasce da una voluta imitazione ironica, naturalmente, della famosissima coppia Sherlock Holmes-Dr. Watson, con una sostanziale differenza. Mentre Nero Wolf continua la tradizione della cosiddetta indagine in poltrona all'inglese, Archie Goodwin è l'altra faccia del giallo, quello all'americana, che fa capo a Dashiell Hammett e si chiama Hard Boiled School, ossia Scuola dei Duri. Hammett è l'autore, tra l'altro, di quel falcone maltese che molti avranno visto al cinema, interpretato da un indimenticabile Frey Bogart nei panni dell'investigatore Sam Spade. Mancanza di spazio ci impedisce di dedicare, come meriterebbe, una puntata alla Scuola dei Duri, a cui, oltre a Sam Spade, appartiene l'altrettanto famoso Philip Marlowe di Raymond Chandler e Hugh Brandon di James Hadley Chase e molti altri. Detectives che, all'opposto dei Sherlock Holmes, dei Philo Vance, dei Poirot, delle Miss Marple, eccetera, sono in azione e risolvono le questioni spesso a suon di pugni, di pestaggi, dati e ricevuti, ben inteso. Regola alla quale Archie Goodwin non sfugge. Eccone una prova, condita dal suo immancabile senso dell'umorismo, nel romanzo 6x1. Inutile ripetere, e del resto lo sanno tutti, che, al contrario, Nero Wolf, l'Himalaya in poltrona, per usare una splendida definizione di Goodwin, è di una pigrizia orrenda. Questo l'emblematico inizio di un altro bel romanzo, La Scatola Rossa. E subito si entra nel secondo, importantissimo argomento. La cucina. Anzi, la buona, anzi, la ottima cucina. Nume, vate e feticcio di Nero Wolf. Già le prime colazioni sono straordinarie e lucugliane. Impressionanti. Mamma mia, a chiunque di noi un festino del genere servirebbe da prima, seconda e forse terza colazione. Non basta. Il modo di vivere di Nero Wolf è veramente da nababbo. I menu che egli organizza con il cuoco svizzero Fritz Brenner sono eccezionali e raffinati. Tanto da far venire le convulsioni non solo a qualunque massaia, sia pure ritenuta abilissima dalla propria famiglia e dagli amici, ma addirittura da sconvolgere i migliori cuochi professionisti. È importante anche la qualità delle materie prime, che, come abbiamo sentito, arrivano addirittura dai posti più impensati. I fichi dal Cile, il miele, possibilmente profumato di timo selvatico, dalla Siria o dalla Grecia. Il prosciutto viene dalla Georgia e il maiale deve essere stato nutrito di arachidi e gran turco, mentre i polli, per essere tali, devono cibarsi fin da pulcini di mirtilli. Ah, è ben inteso, le trote devono essere del Montana. Quanto alle galline faraone, è bene che non prendano spaventi di sorta, per cui quelle allevate a Long Island, che è piena di aerei, non hanno, ahimè, il petto tenero e saporito e ben sviluppato. Un coltivatore specializzato procura le pannocchie di gran turco. È vero che una volta impazzisce e manda dinamite al posto delle pannocchie. E Wolf se la cava appena, grazie al suo meraviglioso intuito, dal saltar per aria con i suoi fidi e tutta la casa di vecchia arenaria del 35esima strada ovest a New York. E la birra? Fresca, ma non troppo gelata, e la marca scelta oculatamente. Wolf ha l'abitudine di accumulare le capsule delle bottiglie nella scrivania, per poi contarle introducendo la mano nel cassetto senza aprirlo. Cosa che viene notata da un assassino, il quale gli ficca un serpente nel cassetto. Questo è l'epilogo del primo romanzo di Rex Stout del 1934, intitolato appunto La traccia del serpente. Dopo la cucina ci sono le orchidee nelle serre sul tetto. E, a Dio piacendo, anche queste costano un occhio della testa, anche perché hanno bisogno di un baglio tutto per loro. Il treno di vita di Nero Wolf è così dispendioso che Archie Goodwin, che è anche l'amministratore di casa, è costretto continuamente a pungolare la pigrizia di Wolf perché accetti, a carissimo prezzo, di occuparsi di qualche caso criminale. Eccoli a confronto in Nero Wolf la paga cara. Una vita tutta impostata sul danaro e su ciò che il danaro può dare quella di Nero Wolf. Molto moderna, da un lato. se pensiamo che Rex Stout comincia a scrivere nel 1934 e non smetterà più fino praticamente agli anni 70. Proprio per questo, però, mi domando. Nero Wolf è un corruttore? Ossia incita soltanto gli istinti più bassi e materiali nei lettori o nei telespettatori? Un fatto è certo. Goodwin, al contrario dei suoi colleghi della scuola dei duri, è, prima di tutto, elegantissimo e spende molto per il suo guardaroba. Inoltre, non riesce più a vivere se non nella gabbia dorata della vecchia casa di arenaria della 35esima strada ovest. E qualunque pranzo, anche buono, che non sia manipolato da Fritz, gli pare insipido. Quando non c'è lavoro in giro, quindi quando non ci sono delitti o ricatti o altre piacevolezze di questo tipo, si dà da fare per procurarlo. Non intervenendo di persone, intendiamoci, ma grufolando là dove qualcosa del genere accade. È vero che è il suo mestiere e lo fa per risolvere un caso, però il caso delittuoso serve a sua volta a risolvere le spese di casa Wolf. Ma il più inerme, quindi inconsciamente il più corruttibile, è quell'anima candida di Fritz. Benvenga dunque un grazioso piccolo delitto per Fritz, il tenero, rispettoso, affezionato, civile Fritz che non ammazzerebbe la famosa mosca e se la prenderebbe soltanto con quella che osasse posarsi su qualche manicaretto della sua cucina. Ma il delitto per casa Wolf è necessario. Io non pretendo di capire l'atteggiamento di Fritz verso il delitto. È certo che lo deplora. L'idea di un essere umano che ne ammazza un altro è per lui insopportabile. Me lo ha detto spesso e so che è sincero. Ma oltre al fatto puro e semplice che un essere umano ha fatto una volta di più qualcosa di inaudito, la sola domanda che Fritz può fare è se abbiamo o no un cliente. Si dovrebbe concludere che Wolf è un corruttore, ma ci sono altrettante possibilità di dimostrare che non lo è. Prima di lanciarmi nella difesa di Wolf vorrei chiedere a Walter Mauro, critico letterario, autore di saggi molto interessanti su Shasha, per esempio, è proprio solo che è nell'argomento. È nell'argomento. Ecco, benvenuto qui. E uno su Armstrong, recentissimo. Chiedergli se è vero che il segreto del poliziesco ben riuscito consiste nel personaggio centrale ben riuscito. Tanto, ecco, scusi, tanto che persino Edmund Wilson, il celebre critico americano, acerimo contestatore dei gialli, ammette questo. Sì, intanto c'è da sfatare una leggenda. Cioè la leggenda che il poliziesco sia un genere letterario diciamo subalterno nell'area della creatività. Mi dà una soddisfazione. Indubbiamente è un genere come tutti gli altri, è un genere letterario che appartiene alla creatività, appartiene all'immaginazione, alla fantasia. Certo, richiede una grande razionalità da parte dello scrittore, da parte dell'autore di Gialli. Sicuramente. È chiaro, è evidente che proprio in funzione di questa razionalità, come dire, la geometria del personaggio centrale del romanzo poliziesco deve rispondere a certi requisiti, direi proprio di razionalità perfetti. Cioè il progetto letterario, proprio nel momento in cui dalla virtualità, cioè dall'immagine, dalla fantasia, si passa all'attuazione, cioè alla realizzazione, alla prassi del personaggio, questo richiede, come dicevo prima, proprio una razionalità totale e direi quindi che è senz'altro giusta l'osservazione secondo la quale la perfetta riuscita del personaggio centrale significa perfetta riuscita del romanzo. Un personaggio a tutto tondo, per dire la cosa del Nero Wolf. Un personaggio giornalisticamente e anche alla Nero Wolf un personaggio a tutto tondo. Lo stesso Edmund Wilson, questo critico, celebre critico americano, però, continua dicendo che Nero Wolf in confronto a Sherlock Holmes, di cui è un evidente rifiacimento, è soltanto una coppia pallida e distante, dice lui, e che le vecchie storie di Conan Doyle hanno una loro vivacità e poesia fiabesca, carrozze, teatri, appartamenti londinesi, solitaria e dimore di campagna, che Rex Stout cerca malamente, dice Wilson, di sostituire con le sue ambientazioni di una moderna New York. È vero o no? Io direi che è vero solamente se si considera questo aspetto che in fondo è marginale, in fondo è secondario, perché è il momento ambientale della vicenda, se lo si considera, dicevo, come fatto preeminente, come fatto fondamentale. Invece, io credo che l'interesse critico, e in questo contesto è un po' quello che dice Wilson, credo che l'interesse critico vada tutto concentrato, anche dal punto di vista psicologico, possiamo dire, sulla figura del protagonista, sulla figura di Nero Wolf. È una figura, intanto, che ha un suo riscatto, ripeto, psicologico molto importante, per esempio, nell'autoironia. Ah, questo è un dubbio. Cioè, appunto, Nero Wolf prende continuamente in giro se stesso. Il suo rapporto con il suo famoso maggiordomo, poi tutta la scrittura è molto divertente, con il suo famoso maggiordomo, è un rapporto in cui tutto si svolge bonariamente, questo è senz'altro vero, però nei limiti e nei margini, proprio nei confini di una razionalità, di una scientificità assoluta. Ora, noi sappiamo, perché la psicanalisi lo insegna, che l'autoironia è un fatto fondamentale, è un elemento riscattante, liberatorio, fondamentale. Per cui, io credo proprio che Nero Wolf sia tra i personaggi del romanzo poliziesco uno dei più intelligenti, cioè uno dei più razionali, uno dei più intelligenti, nel senso che questo suo sarcasmo, questa sua satira, questa sua ironia, è questo rimandare, per esempio, la soluzione di un caso di fronte a un piatto di pasta asciutta. Direi che è importante, è fondamentale. Ma è una pasta asciutta per lui è troppo poco, ci sono delle cose raffinatissime. con tutti gli ingredienti e questo suo seguirlo fedelmente, forse anche pedissequamente da parte di Goodwin, forse rappresenta anche un forte potenziale di suggestione del personaggio centrale. Verissimo. E quindi, dal punto di vista critico, si potrebbe dire, per esempio, che l'universo dei comportamenti che circonda sia il protagonista, converge proprio tutto al nodo della vicenda. Cioè, c'è un forte potenziale di concentrazione in Nero Wolf nei confronti dei personaggi che gli stanno intorno. Anche dei personaggi ruotano tutti. Esattamente, ruotano tutti intorno alla sua figura, alla sua personalità. Il fatto stesso di averlo fatto inamovibile, in modo di dire, perché qualche volta esce di casa. ed è una personalità sorprendente. Per esempio, c'è una scala, diciamo, anche questa psicologica, che va, per esempio, dall'indifferenza nei confronti di un caso che gli viene prospettato fino a un giro di interesse che via via va sempre aumentando, sempre più concentrandosi. Alla fine, Nero Wolf è anche capace di sacrificare un pranzo per risolvere un caso polizioso. E di uscire di casa. E di uscire di casa, certo. Grazie moltissimo a Walter Mauro. Ma torniamo alla importante questione che prima ho lasciato in sospeso. Ossia, Nero Wolf è un corruttore come l'impostazione della sua vita per far supporre? Ebbene, esaminiamo alcuni punti. Prima di tutto, Nero Wolf è un artista. E di conseguenza, una volta cominciato un lavoro, nessuna cifra al mondo, dico nessuna, può farlo rinunciare al compito. Dunque, Wolf non recede mai da un'impresa iniziata, nemmeno di fronte alle più atroci minacce, quelle del crimine organizzato o mafia, che dir si voglia, che nella persona del misterioso e ferocissimo Arnold Zeck esprime una realtà purtroppo molto presente non soltanto negli Stati Uniti. Arnold Zeck corrisponde in pieno a quel Napoleone del crimine, a quel professor Moriarty, nemico acerrimo di Sherlock Holmes, di cui ho parlato qualche puntata fa. Wolf, nel romanzo Nient'altro che la verità, descrive questo potente e pericoloso personaggio che gli ha appena fatto distruggere a colpi di mitraglia la serra e tutte le diecimila meravigliose orchidee con parole che sembrano quasi esattamente quelle usate da Sherlock Holmes per Moriarty. Secondo punto importantissimo per distruggere questo Napoleone del delitto del ventesimo secolo Wolf compie un'azione che non esito a definire eroica. Non solo esce di casa e sparisce non si sa dove per mesi e mesi ma udite udite per non essere riconosciuto dimagrisce di 60 dico 60 chili e si fa crescere i baffi e così rimane con la trasformazione più sensazionale che mai autore di Polizieschi abbia saputo escogitare fino all'annientamento di Zeck operazione alla quale naturalmente partecipa anche Archie Goodwin. Terzo eccezionale punto Nero Wolf e più ancora il suo creatore Rex Thoth si prende il lusso di mettersi niente meno che contro l'FBI eppure il collerico ispettore Kramer legato a Wolf da un odio amore fervidissimo che dà sapore a ogni racconto gli dice che è impossibile attaccare l'FBI non può farlo neanche la Casa Bianca e Goodwin che pure sappiamo attaccatissimo al conto in banca di Wolf non può far a meno di consigliare il genio inamovibile di restituire l'anticipo di 100.000 dollari il più alto anticipo mai incassato da Wolf e lasciar perdere. L'incarico in sostanza consiste nel togliere dai pasticci una signora ricchissima che si è presa la briga e il gusto di inviare a 10.000 persone un volume che svela in retroscena del Federal Bureau of Investigation FBI il telefono sarebbe controllato Pedinati lui stesso e tutte le persone coinvolte nell'affare si affanna dire Goodwin la posta censurata le finestre e le porte diventerebbero di carta velina e l'FBI potrebbe scaraventare sulle loro spalle un'accusa sia pure fasulla ma che riuscirebbe a far reggere ugualmente è la prima e unica volta che Goodwin rifiuta un lavoro il pallone gonfiato è niente meno che Edgar G. Hoover capo assoluto dell'FBI dal 1924 al 1972 ed è ancora potentissimo quando esce il romanzo Nero Wolf contro l'FBI nel 1965 il fatto è che Hoover e questa è storia e non letteratura si è sempre rifiutato di riconoscere la presenza tragica del crimine organizzato in USA e si è sempre rifiutato di combatterlo mettendosi addirittura contro John Fitzgerald Kennedy allora presidente degli Stati Uniti e contro Robert Kennedy responsabile del Dipartimento della Giustizia e d'altra parte molte ipotesi si sono fatte sulla responsabilità dell'FBI nella vicenda di Dallas l'assassinio di Kennedy è quello che sono costretti in effetti a fare Nero e Arci durante questo caso che secondo il biografo Goodwin è il colpo più sensazionale della carriera del genio Wolf che lo risolve con uno dei suoi celebri tranelli nei tranelli in effetti Wolf eccelle e sono di vario tipo questa volta fa truccare vestire degli attori come se stesso e Goodwin per far credere agli agenti dell'FBI di essersi allontanato da casa ma la cosa più interessante a posteriori è quanto siano profetiche le parole di Goodwin profetiche se si pensa che il successore di Hoover a capo dell'FBI è il Patrick Gray III legatissimo a Nixon dopo sei mesi soli dalla nomina viene destituito perché protagonista dello scandalo Watergate devo dunque concludere che Nero Wolf non solo non è un corruttore ma è addirittura un coraggioso assertore delle libertà individuali e collettive avete ascoltato Poliziesco al microscopio storie retroscena personaggi ambienti testi e presentazione di René Reggiani in questo numero Nero Wolf è un corruttore con le voci di Duilio del Prete Carlo Reali Oreste Rizzini è intervenuto Walter Mauro regia di Marco Lami Grazie